A Gravina di Catania i carabinieri hanno arrestato padre e figlio di 51 e 21 anni per danneggiamento, rapina, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale. Sono accusati di avere tamponato la vettura di un imprenditore, di averlo picchiato e di avergli rubato l'auto pretendendo 3.000 euro per la restituzione. La vittima ha denunciato l'accaduto ai carabinieri che si sono presentati alla consegna dei soldi e hanno ammanettato i due uomini. Un Vallo in provincia di Trapani è il proprietario di un'abitazione data in affitto a donne sudamericane che si prostituivano. L'immobile è stato sequestrato. Indagini della polizia a Palermo per identificare le appartenenti ad una banda di finte badanti che bussano a casa di anziani, chiedono di recuperare oggetti caduti da un balcone di un piano superiore, entrano in casa e con l'aiuto di una complice che distrae i malcapitati proprietari portano via soldi e gioielli. Quattro i colpi messi a segno nell'ultimo mese. Confiscati beni per 720.000 euro a Salvatore Bisconti, 67 anni considerato organico alla mafia di Belmonte Mezzagno, già condannato a otto anni e otto mesi di reclusione, e 500.000 euro a giacinto di salvo, 79 anni reggente del clan di Bagheria, già detenuto. Il provvedimento è della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo. Grazie a tutti.